si direttore si di l'udinese scende in campo con musso de mayo becao noi tic stringer fofana mandragora depo sema o cacca a lasagna si ma ne puoi farci tutta una cosa così è una deformazione professionale benissimo allora vi ricordo ancora una volta che l'inter in qualche modo l'inter conte fa fuori sanchez palla per vessino ancora vessino che non mi è piaciuto neanche stasera adesso palla per moses attenzione avanza adesso brozovic cerca spazi trova marella palla difficile poi lukaku lukaku è in aria ancora lukaku romeu 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 che grande gol e questo è bravo e questo è bravo allora approfitta lukaku di un'incertezza difensiva dell'udinese fa passare la palla tra le gambe del difensore sorprende musso l'onda monoplex allora allora lukaku riceve palla in posizione sbucando dietro un po' la difesa dell'udinese e poi capisce che di bigliano strighe alle gambe aperte in messa alle gambe noiting allora colpo di bigliano il gol si perde un po' la difesa dell'udinese la posizione di lukaku c'è un'apertura qui lukaku prende palla entra in aria a noiting davanti a sé vede che ha le gambe aperte e di precisione colpo da bigliano fa passare la palla in mezzo alle gambe musso non se l'aspetta si tuffa con un leggero ritardo perché il fio non è neanche angolato ma sorprende poi sulle gambe aperte l'attivamento diverso dell'udinese di andare un po' più avanti ha pagato adesso perché si ha pagato per l'Inter è bene ancora bastoni poi Sanchez che prova ad andare via vince un riballo Sanchez è in anticipo dribbling calcio di rigore calcio di rigore è detto che si è procurato Sanchez grazie a tutto bravo Sanchez fortunato nel rimpallo ma ha avuto un guizzo da grande campione Sanchez un guizzo vediamo c'è stato un rimpallo molto fortunato per Sanchez ha preso la palla in faccia si e poi Musso lo mette giù allora ve lo faccio vedere siamo rigore indiscutibile allora vedete qui Sanchez un tempo c'era l'espulsione oh ragazzi allora Sanchez qui perde palla ma nel contrasto il pallone schizza proprio sulla faccia di Sanchez che si trova praticamente un'autostrada libera entra in alla di rigore esce Musso in ritardo Sanchez con il punto di piede lo anticipa e Musso lo travolge ed è calcio di rigore come hai fatto vedere bene stavolta direi che è decisamente un momento caldo e si si accende la partita allora via perché quando dici accendi fuoco dici diavolina va bene allora Romelu Romelu Lukaku eccolo qua Romelu si Romelu mio contro Musso Romelu mio è pronto a calciare attenzione Romelu Lukaku contro Musso minuto 71 si Romelu non so perché concentratissimo Romelu non guarda il portiere non guarda il portiere guarda solo il pallone Romelu Romelu potrebbe essere doppietta dai Romelu parte Lukaku scontata il portiere è il gol grande doppietta e sale a quota 16 in classifica cannonieri c'è un fello c'è un fello c'è un fello allarga su zigra l'ultimo laccio l'udinese di bello rallenta è finita è finita è finita senza prendere gol allora 2 a 0 una partita con un minimo di fortuna mentre l'udinese protesta con l'arbitro probabilmente per il calcio di rigore di poc'anzi non mi pare però che l'arbitro di bello abbia fatto cose significative no 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 gimme5 è l'innovativa app che offre la possibilità di ottenere il massimo dai propri risparmi registrati sul sito o sull'app cliccando sui link in descrizione prima dell'adesione consultare il prospetto e il kid su www.acomea.it e il Grazie a tutti.